Questo è l'ingresso del centro giovanile immacolata della parrocchia San Leonardo di Montallegro, la nostra parrocchia. Qui negli anni migliaia di visitatori hanno visto una piccola bettilemme ricrearsi ad opera di meravigliose persone che hanno saputo lavorare dedicandosi nell'artigianato e nelle mille maestranze a ricreare un ambiente di accoglienza, di fede e di promozione del territorio con le mille pietanze. La pandemia quest'anno ci ha tolto questo anche, ma noi comunque in questo posto abbiamo voluto accendere una luce a modo nostro per ringraziare le tante persone che negli anni hanno lavorato a presa per vivente. Quest'anno non sono riuscite a farlo, lo faremo l'anno prossimo. Nel frattempo dedichiamo questo spettacolo a loro e a voi tutti. Buona visione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. . 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